Buongiorno, abbiamo deciso insieme al gruppo degli insegnanti dell'Accademia OMI di aprire le iscrizioni al nuovo anno accademico. Lo abbiamo deciso in funzione di una necessità che vediamo essere molto importante, soprattutto in questo momento storico in cui ci troviamo, momento storico, momento energetico, e ci siamo accorti che nonostante tutte le difficoltà del non poter fare lezione in presenza, di aver dovuto trasferire le lezioni dalla presenza allo Zoom, ovviamente le lezioni che erano possibili da svolgere sulla piattaforma online, mentre abbiamo poi cambiato l'ordine delle lezioni, che invece sono per forza da fare in presenza nei mesi in cui è stato possibile farlo. Quindi in realtà con l'organizzazione elastica, ovviamente la disponibilità di ognuno di noi è stato possibile mantenere tutti i contenuti e tutte le materie che vengono proposte. Quindi abbiamo pensato che in questa modalità è possibile anche quest'anno riaprire l'Accademia e abbiamo soprattutto visto quanto sia importante fare questo tipo di percorsi, questo tipo di percorsi che sembrano lunghissimi e spesso uno si iscrive per volere il diploma finale. In realtà la nostra Accademia, come abbiamo detto spesso, è un po' un percorso di vita, è un piccolo pezzo di vita e la creazione di una visione di questa vita usando la responsabilità e la consapevolezza. Di conseguenza questi tre anni che, come dico sempre, sono un ciclo di Saturno, un ciclo di Saturno sappiamo bene quando passa sul nostro sole o quando passa in certi punti della nostra carta natale dove abbiamo magari degli aspetti di personalità, quanto sia importante quel passaggio per radicarci, ma non solo per radicarci sulla Terra, per unire, perché Saturno diventa proprio il tredunione tra il cielo e la Terra. È interessante perché si parla spesso di questa unione di cielo e Terra, ma poi che cosa significa realmente? Noi siamo esseri spirituali, tutti quanti, siamo esseri che veniamo da un campo energetico, questo non lo dico io, ho un gruppo di hippie del 68, ma sta venendo confermato sempre di più anche dalla scienza, dalla fisica quantistica, ormai da decine di anni, quindi non è più neanche qualcosa di nuovo effettivamente e questa energia che viene a fare un'esperienza appunto sulla Terra è un'energia che ci permette e ci obbliga, prima di tutto ci obbliga, poi ci permette, prima di tutto ci obbliga a trovare un equilibrio, cioè noi qui abbiamo un'energia che viene a fare un'esperienza umana, questo significa che in questa esperienza umana noi dobbiamo riuscire a incastrare questa parte energetica e farla vivere attraverso un corpo fisico. È un corpo fisico che non è assolutamente una gabbia, ma è un veicolo, è un veicolo potentissimo oltretutto. Per questo nella nostra accademia ci sono questi livelli in cui l'umano si esprime, quindi c'è il livello dell'area fisica, quindi tutta la parte della consapevolezza corporea, dello yoga, quindi del movimento, ma del movimento consapevole. C'è tutta la parte di naturopatia per cui noi abbiamo a disposizione nel mondo delle sostanze naturali che da sempre sono le nostre medicine primordiali, che l'umano ha conosciuto nei tempi dei tempi e poi attraverso la conoscenza analogica, quindi più intuitiva, l'umano ha conosciuto nelle proprietà più adatte ad essere curative per noi, ad essere riequilibranti di una disarmonia che può accadere dentro il corpo umano e dentro il corpo umano, inteso come il corpo emotivo, il corpo mentale, quindi la disarmonia tra i nostri corpi crea dei sintomi e quindi la malattia. La malattia che diventa benattia nel momento in cui noi sviluppiamo una consapevolezza di noi stessi tale per cui questa ci permette di esprimere la trasformazione che il sintomo viene a richiederci in quel momento e quindi ad evolvere, quindi a salire questi scalini di una scala che dal primo gradino del bambino ovviamente va verso l'alto, quindi si riunisce con il cielo, ma questo è un'evoluzione speculare tra la nostra parte alta e la nostra parte più bassa, quindi possiamo dire all'interno del nostro corpo, tra i centri energetici o comunque i centri fisici anche della testa e i centri fisici della pancia, fisici ed energetici. Tutto questo viene unito da che cosa? Da il centro, cioè dal nostro cuore, quindi dobbiamo conoscerci su questi livelli per riuscire a ritornare in armonia e ogni volta che appare un sintomo, che non è solo un sintomo fisico ma può essere una difficoltà nella vita, può essere un conflitto interno a livello emotivo, a livello mentale oppure un sintomo che si manifesta nel nostro lato fisico. Certo è che noi dobbiamo conoscerci in tutti questi livelli e quindi l'accademia vuole dare questo tipo di conoscenza, quindi è un percorso che al di là che uno esca per fare l'operatore o ad entrare in una relazione di aiuto è un percorso che ci permette di cambiare la nostra visione delle cose, ovviamente di migliorare la nostra relazione con noi stessi e di acquisire degli strumenti che poi sono applicabili nel resto della vita. Quindi è per questo, io lo chiamo sempre un percorso di vita, è un organo vivo. Chi mi conosce sa che non sto ferma, ma questo nel senso che mi piace andare con la vita e quindi la vita ci richiede di essere cambianti, ci richiede di accedere a nuove informazioni, a nuove esperienze. Questo perché accade intorno a noi, quindi c'è un'area di ricerca importante dietro a tutto ciò che viene proposto che è vivo e quindi evolve, evolve un po' insieme a noi sicuramente. Gli altri insegnanti sono uno specchio di me, quindi abbiamo creato un team con una visione evolutiva uguale dove come all'interno degli organi si crea un sistema, un apparato, quindi diversi organi, quindi diverse persone che attraverso le proprie materie confluiscono in un unico scopo che è quello appunto di elevarci di coscienza, proprio perché noi crediamo che la consapevolezza di noi stessi può realmente migliorare la qualità della nostra vita, della nostra espressione nel mondo, del nostro camminare come adulti e non più come bambini dipendenti e vittime di ciò che accade, ma quindi con la responsabilità dell'adulto e questo ci può portare realmente a fare delle esperienze altamente profonde e quindi altamente connesse con ciò che è lo spirito. Quindi senza dimenticare nessun livello dove noi ci esprimiamo e che noi abitiamo come esseri umani in questo momento, quindi dal cielo alla terra, tutti i passaggi sono pensati per da un lato avere strumenti, dall'altro ovviamente per fare esperienza di quegli strumenti ed essere accompagnati in questi anni, accompagnati non come una mamma accompagna il bambino, quindi allattati, ma accompagnati come adulti. Questa è una scuola di consapevolezza, quindi noi insegnanti siamo i primi ad essere in gioco tutto il tempo, ovviamente questa è la base della nostra visione, la base della visione che io non posso esprimere o trasmetterti qualcosa che non ho sperimentato, non sto sperimentando su di me in prima persona, quindi l'inclusione di tutta una vulnerabilità che come esseri umani, insegnanti o non insegnanti, terapeuti o non terapeuti, noi tutti abbiamo, quindi non è il ruolo che ti salva dalla tua parte vulnerabile, ma la tua parte vulnerabile diventa uno strumento di evoluzione e di cuore, perché è proprio la nostra vulnerabilità la via del cuore, è proprio grazie alla nostra vulnerabilità che si mette in relazione con la nostra forza a creare l'individuo completo e quindi noi vogliamo andare verso l'integrità interiore, non solo dei nostri alunni, ma come vi dicevo prima di tutto di noi come insegnanti dell'accademia. Questa è la visione primaria, cioè pensiamo che non si possono creare degli operatori se prima quegli operatori non hanno lavorato su di sé, non hanno usato quegli strumenti su di sé, solo in questo modo noi possiamo apprendere come usarli sugli altri, quindi è un lavoro che va di pari passo. Ci sono tante persone che fanno questo percorso per se stesse, quindi come un percorso di crescita personale e ci sono persone che poi nel tempo decidono di usarlo perché i propri talenti, le proprie qualità vengono fuori, vengono a galla esattamente come le proprie ombre ovviamente, per cui c'è questa relazione tra luce e ombra che attraverso gli strumenti, i seminari e il tutoraggio degli studenti nel tempo vengono accompagnati attraverso le varie fasi della conoscenza di sé e del cambiamento a che cosa? Uno stato più egoico e quando dico egoico intendo più superficiale, più di personalità, a uno stato più profondo di individuo, c'è indiviso dentro. Noi andiamo verso l'integrazione delle nostre parti, l'inclusione di tutto ciò che siamo e non l'adesione a un modello, per cui la visione dell'Accademia è anche quella di esaltare le qualità di ognuno che sono diverse, per cui anche i lavori extra che voi sicuramente avete visto, che facciamo, quindi le meditazioni, quindi gli interventi di diverso tipo, quindi il servizio, la parte del servizio che l'Accademia e la nostra associazione vuole offrire, sia come, sapete quante cose faccio a livello gratuito proprio per trasmettere ciò che è il servizio sulla Terra, all'umanità e al pianeta intero, ma in più i nostri studenti si mettono appunto a disposizione e in base alle qualità che hanno vengono scelti per certi lavori piuttosto che altri. C'è un impegno dietro, anche dietro al servizio, ovviamente vengono preparate le persone, quindi non buttate lì così a caso, ma vengono preparate, queste preparazioni sono incluse nel percorso, vengono fatti appunto attività extra che sono incluse nel percorso, cioè nel momento in cui qualcuno si iscrive all'Accademia, noi siamo, diciamo così, prendiamo a carico quella persona attraverso i vari passaggi e attraverso proprio anche l'inclusione di quelle persone nelle attività, non più come alunni, se hanno sviluppato i talenti e se hanno sviluppato le capacità e se c'è l'impegno dietro veramente di mettersi in discussione, questo a noi ci interessa molto, quindi vengono poi accompagnati e fatti entrare anche come assistenti alle diverse lezioni piuttosto che ai nuovi progetti che vengono poi, nascono poi nel tempo e vengono proposti nel tempo. Questa è una breve introduzione, poi magari ci saranno altre occasioni per farvi conoscere gli insegnanti o farvi conoscere ciò che facciamo, quest'estate ci sarà un festival, non amo molto chiamarlo festival, ma è un evento dove stiamo includendo appunto sia le materie, quindi gli insegnanti che portano le proprie materie attraverso ovviamente seminari più specifici e in più anche invitati esterni che collaborano con noi proprio tutto in sinergia per arricchire quello che facciamo. Noi siamo un gruppo che vogliamo lavorare ed espandere questa visione sulla Terra, per cui tutti quelli che entrano in un qualche modo a collaborare o a far parte di questo gruppo a camminare insieme per un tratto di cammino perché non vogliamo assolutamente creare nessun tipo di dipendenza, anzi noi vogliamo creare individui che sanno camminare da soli, per cui poi il gruppo diventa quella visione acquariana che io porto nel cuore da sempre, che è ognuno per sé, ma insieme camminando in individualità possiamo mettere insieme le nostre caratteristiche e capacità e creare veramente un gruppo di maestri, di se stessi che collaborano e si arricchiscono a vicenda. Abbiamo aperto le iscrizioni, per le informazioni potete scrivere ad aomiacademia.com o visitare il sito dove ci sono tutte le informazioni di prezzi, calendari, materie e insegnanti su www.aomiacademia.it. Grazie.